Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo per fare l'esercitazione numero 9 che riguarda le classificazioni automatiche e che prevederà un'esercitazione 10 perché oggi non riusciremo a registrare tutto e a svolgere completamente tutto ciò che ci aspetta rispetto alle classificazioni assistite. Per cui cominciamo ritrovando esattamente quello che abbiamo fatto la scorsa volta perché in ogni caso era un'esercitazione che riguardava le classificazioni, abbiamo utilizzato l'algoritmo isodata, abbiamo fatto qualche prova anche per verificare che cosa succeda, però la cosa fondamentale era quella relativa al fatto di aver già processato dei file e quindi per non ripartire assolutamente da zero direi di riprendere esattamente. Da questo punto per cui allora siamo in questa situazione vedete abbiamo creato tutto un sacco di file però direi ci siamo ricordati adesso quello che abbiamo fatto possiamo andare sul file principale e sul sul menu principale in file chiudere tutti i file ok. Per poi riaprire solamente quei pochi che ci servono ok vedete i file sono stati completamente chiusi abbiamo due viste aperte perché la scorsa volta vi ricordate abbiamo creato due viste per fare i nostri confronti. Direi che forse due viste sono eccessivi al momento quindi sul layer manager andrei col tasto destro su view e chiuderei cioè toglierei questa ulteriore view lasciando solamente quella che davvero ci serve. Allora da dove partiamo? Partiamo dal dato calibrato e di cui è già stata fatta la modellazione del subtraction per attenuare la componente della diffusione selettiva per cui andiamo a riaprirci questo file che vi ricordate abbiamo creato la scorsa volta. Quindi in questo caso non lo apriamo più come un file di metadati ma è aperto nel formato fondamentalmente di envi quindi io vado nella cartella in cui l'ho creato e vedete ho questo dato che si chiama amazonas underscore cal underscore edalsubtraction.dat e apro questo file. Vi ricordate questo è un file adesso qua stiamo vedendo l'immagine a colori reali se andiamo a col tasto destra a guardare le statistiche di questo di questo file vi ricordate che avevamo creato un file un sotto insieme sulla dark subtraction grande circa 4000 per 4000 per cercare appunto di fare tutta la calibrazione. Ecco i dati vedete sono dati di riflettanza compresi tra 0 e 1 abbiamo ancora le nostre 6 bande spettrali siamo in un insieme di lanza 7 andiamo a vedere le listogrammi prendiamo per esempio l'istogramma di banda 4 vedete l'istogramma di banda 4 e questo e vi ricordate l'avevamo già detto anche la scorsa esercitazione questo è esattamente un istogramma del tutto simile a quello che vi ho fatto vedere nelle esercitazioni scusate nella parte teorica quando parlavamo di filtraggio digitale cioè vedete un istogramma bimodale perché in questa immagine abbiamo una questa siamo in banda 4 cioè nell'infrarosso vicino abbiamo un grosso picco che riguarda tutta la vegetazione tutta la foresta e quest'altro picco invece verso il basso è relativo all'acqua che è presente sull'immagine ok ci siamo a questo punto allora dobbiamo iniziare il processo di classificazione assistita per fare questo processo di classificazione assistita come sapete avete visto la parte teorica si parte dall'insieme multispettrale dai dati accessori che in questo caso non abbiamo e si parte con la parte di training cioè quindi di training dell'algoritmo che poi utilizzeremo e questo training va fatto estraendo un campione di digital number in questo caso dati di riflettanza un campione che deve essere rappresentativo e significativo secondo quello che abbiamo detto nella parte teorica questo campione va fatto utilizzando gli strumenti che abbiamo in envy cioè la scelta di firme spettrali prima di fare questo però io andrei sul data manager su quest'icona perché fondamentalmente forse è il caso di andare a selezionare una visualizzazione che forse sia più consona per cui per esempio scegliamo la visualizzazione in falso colore 432 e la ricarichiamo sulla stessa sulla stessa immagine ok a questo punto voglio andare a vedere come è rappresentata l'acqua vedete abbiamo acqua in diverse condizioni e direi che ci siamo quindi direi che questa visualizzazione potrebbe essere quella consona quella consona a questo punto vedete abbiamo un perché probabilmente l'abbiamo definito prima si l'abbiamo definito nell'esercitazione precedente ho uno stretching lineare al 2% magari vado a fare uno stretching gaussiano forse era meglio quello del 2% effettivamente lo riporto al 2% ed ecco che abbiamo la nostra immagine in falsi colori a questo punto è ciò che mi serve è crearci una serie di region of interest delle superfici che noi andiamo a ricercare abbiamo detto che tipo di superfici sono qua dentro su questa abbiamo scelto questa immagine proprio perché c'è una gamma di superfici abbastanza limitata perché c'è molta acqua la maggior parte della dell'immagine rappresentata da foresta quindi la vegetazione tutto quello che qua vediamo in rosso poi ci sono le aree deforestate che sono queste con dei contorni molto regolari e poi ci sono le nuvole quindi abbiamo fondamentalmente acqua foresta area deforestate nuvole quattro superfici più le ombre delle nuvole che in realtà non sono delle vere superfici ma sono delle vedete qualcosa che è assolutamente apparente sulle nostre immagini vedremo come gestire poi questo aspetto ok allora per fare questo quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare col tasto destro sulla nostra immagine e attivare il comando relativo alle new region of interest ok quindi carichiamo a new region of interest vedete quando le creiamo vedete compare la prima region of interest che non ha un nome in questo momento allora chiamiamo questa prima region of interest per esempio acqua ok manca una e il nome fondamentale e questa operazione banale che stiamo facendo di assegnare un nome alla nostra prima region of interest è un'operazione fondamentale che fondamentalmente attiene il fatto di assegnare dell'informazione a priori cosa che invece nella classificazione esodata cioè automatica facevamo solamente a posteriori quindi questa è una fase fondamentale che abbiamo che facciamo in questo momento e in questo caso assegniamo anche un colore diverso alla nostra alla nostra region of interest per esempio assegniamo un bel colore blu perché quello che maggiormente in cui nel nostro inconscio pensiamo essere l'acqua scusatemi scusatemi e adesso cominciamo a disegnare le nostre region of interest vedete che fate attenzione a che cosa facciamo in queste region of interest vedete a che tipo di region of interest prendiamo in questo caso pensiamo di prendere dei poligoni che è sempre il modo migliore per estrarle e quindi cominciamo a definire queste region of interest vedete che il cursore lo vedete qua sull'acqua verde in basso e adesso è un crocicchio di puntamento io in ogni caso mi muovo in modo e uso anche il pan cioè mi muovo per spostarmi all'interno dell'acqua e a quel punto arrivato sulla mia region of interest devo riattivare il menu in modo da ricambiare il mouse nel momento in cui ho cambiato vedete usato il pan lo rifaccio uso il pan mi sposto verso un'area in cui estrarre un poligono di acqua vedete che si è disattivato il menu il menu non è più selezionato il menu della region of interest quindi il mouse è la mano che mi permette di fare il pan nel momento in cui riclicco su questo menu vedete il mouse ritrasforma nel mio nel mio crocicchio di puntamento quindi tenendo schiacciato il tasto di sinistra disegno una roi sto molto lontano dai bordi per non andare a intercettare cose che non sono acqua e quando voglio chiudere clicco col tasto destro completo e accetto il poligono ed ecco che viene campito ok allora e tenersi lontano dai bordi e assumere cioè andare a estrarre un poligono in un'area molto omogenea significa fondamentalmente tenere e mantenere la significatività dell'area ma per quanto concerne la rappresentatività dell'area io devo cercare di andare a prendere più aree di acqua magari in condizioni diverse cioè fare in modo di poter garantire il fatto di poter estrarre acqua nelle diverse condizioni qua in cui si presenta per esempio vedo che in questa zona intermedia qua vedete l'acqua anche in vedete che qua ha un e compare in maniera differente per cui anche qua sono andato su quest'acqua riattivo il mio menu e disegno un altro poligono cioè quindi questo ci fa capire lo chiudo che posso all'interno della stessa ROI disegnare più poligoni in modo da garantire la rappresentatività del mio dato qua ne ho messi due vedete che per esempio attenzione a non cliccare qua sopra quando avete questo menu perché sennò cominciate a disegnare vedo che per esempio in questa zona c'è acqua ancora in condizioni differenti qua disegno una ROI anche qua intorno ok completo il poligono perfetto a questo punto ne ho già disegnate tre direi che sono nelle diverse condizioni queste sono più o meno come questa mentre invece le condizioni sicuramente diverse sono di questo di quest'acqua che abbiamo qua vedete che abbiamo questi due eh fiumi che arrivano di cui uno è una canalizzazione fondamentalmente questa è un'acqua molto scura almeno nell'infrarosso eh vicino e l'altro un po' più chiara quindi sarà il caso di andare a prendere anche due ROI in questa zona vedete sono abbastanza differenti quindi eh zoom arrivato sulla region of interest disegno un poligono allungato stando molto lontano dai bordi lo chiudo ok e faccio la stessa cosa in quest'altro canale stando sempre lontano dai bordi ok chiudo e accetto benissimo a questo punto abbiamo estratto una certa un certo numero di aree vedete ne ho estratte cinque diversi poligoni direi che potrebbe anche essere sufficiente anzi facciamo ancora quest'ultimo sforzo andiamo nella zona proprio qui a sud estraiamo anche una ROI qua così almeno prendiamo veramente tante zone di acqua completiamo e accettiamo eccola qua benissimo vedete che eh qua nel gestore dell'eroe abbiamo quest'area acqua e vedete ci sono sei record cioè abbiamo estratto sei aree in cui qua per esempio potrei cancellare tutte le aree e passare dalla prima alla seconda per esempio andare dalla prima la seconda la terza e vedete che nel momento in cui scorro queste ROI vedete si centrano nella posizione in cui sono state estratte ok a questo punto abbiamo disegnato queste ROI abbiamo perso del tempo quindi salviamo il file quindi nella finestra del region of interest andiamo in file e diciamo save as vedete selezioniamo la nostra ROI di acqua e andiamo a salvare con un nome del file qualsiasi basta che abbia un'estensione xml quindi io vado nella selezione per verificare che sia tutto a posto e quindi le chiamo per esempio ROI underscore Amazonas punto xml ok non ho messo l'underscore scusate eccolo qua ROI Amazonas xml c'è qualcosa che non funziona vediamo ehm 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 lì richiamo ROI punto xml ok 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 esiste già ma non fa nulla e lo salvo ok ROI xml salvate perfetto benissimo allora eh ritorno eh sul mio zoom dell'immagine a questo punto abbiamo estratto l'eroi eh direi di procedere a questo punto forse di questa. vedete ho sbagliato, ho disegnato la ROI, a questo punto nel momento in cui è disegnato, veramente l'ho fatto apposta per far vedere cosa succede nel momento in cui inavvertitamente clicchiamo con la ROI, vedete possiamo semplicemente cliccare col tasto di destra e dirgli di fare un clear del poligono, adesso vado col mio zoom e a questo punto andiamo a cercarci per esempio delle zone di foreste, allora a questo punto per avere una nuova ROI, vedete siamo qui in region of interest, siamo ancora sull'acqua, attenzione non disegnatele qua sopra, clicchiamo su questa icona nuova ROI, eccola qua, e chiamiamo questa ROI per esempio Foresta, scusate devo scrivere, non riesco a cambiare il nome, scusate, ok adesso ci riesco, Foresta, perfetto, e assegniamo a questa ROI per esempio un bel colore verde, ok? a questo punto andiamo sulla nostra forest, andiamo a zoomare, cerchiamoci una zona, cerchiamo di evitare di prendere questi tratti miandriformi, che direi che sono fiumi, che sono sotto la coltre vegetata, e andiamo a prenderci una ROI qua intorno, ok? completiamo ed accettiamo, benissimo, a questo punto andiamo in altre zone, andiamo di nuovo a prenderci anche qua dei poligoni, ok? in modo da garantire una certa una certa rappresentatività, vado qua intorno, vedete sto lontano da tutto ciò che non appaglia assolutamente rosso, qua intorno, vedete? questa è ancora vegetazione, questa è ancora foresta, per esempio posso andare in questa zona qui che appare un po' più scura, ok? benissimo, e abbiamo già quattro record, vado ancora qua in una zona magari in mezzo alle nuvole, qua, ok? e poi invece, giusto per farvi capire, qua in mezzo all'acqua ho della vegetazione verde, non credo che sia foresta, non so esattamente cosa sia, vediamo cosa succederà con il nostro software quindi qua foresta le abbiamo, guardiamo dove le abbiamo digitate, 1, 2, 3 e 4, eccole qua, perfetto a questo punto procediamo, per esempio adesso potremmo procedere, visto che siamo qua, con le nuvole quindi nuova roi, andiamo qua, nuova roi, scusate qua, ok? chiamiamo questa nuova roi, chiamiamole nuvola, nuvole anzi o nuvola, singolare diamo magari a questa roi, che so io, colore ciano questo, e andiamo su una di queste nuvole e stando lontano dai bordi andiamo a disegnare un poligono ok? perché in ogni caso sono superfici che esistono e quindi tanto vale prenderle in considerazione ovviamente non sono delle superfici che noi vogliamo classificare rispetto alla loro posizione ma sono superfici che a noi interessano perché potremmo poi indicarle come un outlier da tenere in considerazione ecco, per esempio qua ne vedo alcune benissimo andiamo anche qua a digitalizzare queste nuvole ok? e poi magari andrei su delle nuvole che ci sono sul fiume in modo da magari non questa che non mi pare troppo niti da questa per esempio invece mi appare sufficientemente grande per non andare a pescare dei bordi ok? completiamo anche questa e andiamo poi vediamo se troviamo qualcosa veramente in prossimità del fiume che si possa digitalizzare per esempio questa ok? stiamo lontano dai bordi vedete che ci sono delle zone dove ci hanno intorno stiamo nella zona centrale completiamo perfetto abbiamo fatto anche le nuvole a questo punto e adesso ci mancano solamente più le aree deforestate quindi vado su una nuova ROI ok? chiamo quest'area deforestato perfetto e magari gli diamo un colore che so io marrone questo qua che trovo qua in fondo per esempio che vedete è la tripletta 153 99 0 ok a questo punto andiamo sulle aree deforestate sicuramente queste sono aree deforestate le vedete che hanno questo colore verdastro vedete che sono molto meno omogenee di quelle precedenti cerchiamo di prenderle in questo modo e andiamo poi a cercarne delle altre ok sono andato troppo indietro con lo zoom ecco qua abbiamo per esempio delle grandi aree per esempio queste completiamo anche qua abbiamo quest'area molto meno omogenee vedete e andiamo a vedere se ne troviamo dove sono anche in altre aree in modo così vediamo qua in alto vedete direi di andare su queste zone qua anche se non sono troppo omogenee prendiamole questa è la loro caratteristica vediamo di andarne a prendere qualcuna ancora da qualche altra parte magari qua in mezzo alle nuvole così abbiamo veramente una rappresentanza una rappresentatività completa vedete questa è una zona bella verde nel falso colore chiudiamo anche questa e completiamo ok abbiamo anche in questo caso preso 5 ROI a questo punto abbiamo disegnato tutte queste ROI li andiamo a salvare save as vedete adesso abbiamo tutti gli item acqua foresta nuvola deforestate vedete che li vedete anche qua sul layer manager selezioniamo tutti gli item mettiamo tutto nello stesso file lo chiamo ROI sovrappongo potrei anche salvare in diverse in diversi file e diverse ROI ma considerate che anche se stanno nello stesso file poi sono assolutamente selezionabili singolarmente quindi non è necessario metterle in diversi in diversi file l'abbiamo inserito e l'abbiamo salvato ok adesso ci siamo perfetto quindi abbiamo fatto le nostre ROI a questo punto potremmo fondamentalmente che cosa fare potremmo computare le statistiche delle ROI ok per cui guardate finestra della ROI compute statistics e questa è la statistica del deforestato quindi esattamente molto simile a quella che facevamo precedentemente chiudo un po' questa finestra così almeno riusciamo a vederne di più queste sono minimi massimi media e deviazione standard vedete per le sei bande delle sei bande che ho preso in considerazione noi adesso qua le abbiamo disegnate solamente su una sintesi in falsi colori ma ovviamente come vi ho detto anche nella teoria stiamo estraendo i dati da tutte le bande e questa non è altro che la fascia spettrale in cui vi ricordate con la linea nera abbiamo il valore della media nelle diverse bande spettrali queste sono lunghezze d'onda misurate in micron con il verde abbiamo le deviazioni standard e con i rossi i massimi e i minimi ok possiamo anche vedere gli istogrammi per esempio gli istogrammi della banda 4 vedete questi sono i valori degli istogrammi così come li abbiamo presi all'interno delle nostre firme spettrali ok quindi riguardiamo il minimo massimo la firma spettrale qua abbiamo il deforestato possiamo fondamentalmente andare a vedere le roi di altre delle altre firme spettrali quindi fondamentalmente che cosa possiamo fare possiamo andare a selezionare la roi seguente con questa icona per esempio adesso potremmo andare nella roi di acqua e calcolare le statistiche dell'acqua eccola qua permettetevi anche di chiudere quest'acqua così la guardiamo vicino a questa questa è la firma spettrale dell'acqua vedete e vedete che la firma guardate la linea nera non guardate le altre linee perché comunque attenzione alla scala delle ordinate c'è la unità di misura vedete che qua abbiamo un intervallo sembra molto più ampia questa fascia spettrale ma in realtà vedete che la deviazione standard è ancora relativamente bassa questa è l'acqua andiamo ancora qua e scegliamo per esempio la classe foresta e calcoliamo la nostra firma spettrale questa è vegetazione vedete che la vegetazione è veramente molto simile a quella teorica massimo relativo nel verde picco di assorbibilità nel rosso e massimo assoluto nell'infrarosso vicino e poi scende nell'infrarosso medio e poi abbiamo la nostra ultima roi che è quella delle nuvole che sarà una roi molto particolare e con moltissima deviazione standard probabilmente infatti vedete in cui addirittura vedete che certi valori di massimo sono addirittura inferiori alla deviazione standard ma questo è un classico esempio che poi vi spiegherò più avanti quindi vedete abbiamo preso le nostre quattro firme spettrali ok allora detto questo chiudiamo queste finestre poi voi guardatevele con tanta calma in modo da poter fare tutte le vostre considerazioni e su questo menu c'è una informazione che è particolarmente importante che è quella relativa alle option a questa opzione che si chiama compute roi separability cioè fondamentalmente in questo caso vengono calcolata la separabilità tra le diverse roi quindi clicchiamo e vediamo che cosa vogliamo fare selezioniamo una roi di output per esempio la foresta ok e vedete viene calcolata secondo un criterio che adesso vedremo questo algoritmo che si chiama di Jeffries Matsushita una divergenza che ci viene ci calcola la separabilità delle diverse roi per cui per esempio tenendo conto della foresta ci dice la foresta l'acqua e tutte le altre roi come si comportino e come siano separabili cioè nel senso che questo algoritmo ci permette che è un algoritmo di natura prettamente statistica di capire se due roi che abbiamo estratto siano tra di loro separabili se sono separabili vuol dire che allora potrò utilizzarle in una classificazione e se non sono separabili perché sono molto simili tra di loro per esempio immaginate al fatto di prendere per esempio di vegetazione due specie arbore diverse che noi in fotointerpretazione paradossalmente da queste immagini riusciremo a riconoscere se io prendessi due roi di due essenze diverse della foresta e le mettessi insieme probabilmente il loro livello di separabilità sarebbe relativamente basso come leggere questa separabilità vedete che ci sono dei valori fondamentalmente uguali a due andiamo a vedere l'help per cui usiamo l'help andiamo a chiedere il contenuto dell'help andiamo nell'index scriviamo roi separability dovrebbe esserci se non c'è andiamo a cercarlo in un altro modo ok cerchiamo forse solo separability vediamo se funziona non funziona un attimo andiamo a vedere cosa ci dice della roi vediamo cosa riusciamo a trovare oppure scusatemi mi viene ancora in mente una cosa jeffries andiamo a vedere se per esempio riusciamo a trovare qualcosa come mazzu no mazzuscita non c'è niente vediamo se sepa no roi tool non riesco a trovare assolutamente nulla questo è un po' strano nel senso che dovrei riuscire a trovare tutte le cose che riguardano le roi ok andiamo qua in quello generale create siamo andati su roi ok andiamo a vedere eccolo qua separability eccolo l'abbiamo trovato andiamo a leggere cosa c'è scritto sulla separability e c'è scritto usiamo la roi separability tu per calcolare la separabilità spettrale delle roi questo è basato vedete su questo algoritmo di jeffries e mazzuscita i valori variano da 0 e 2 e indicano quanto buona sia la separazione delle roi valori più grandi di 1 e 9 indicano che le roi che le coppie di roi hanno una buona separabilità quindi vuol dire che se andiamo a vedere il rapporto tutte queste roi hanno una separabilità che è intorno a 2 quindi vuol dire fondamentalmente che sono separabili quindi abbiamo scelto delle roi che sono separate e quindi questo ci consente di essere relativamente tranquilli sul fatto che se se l'algoritmo di classificazione avesse qualche problema questo non deriva dal fatto che abbiamo delle roi molto sovrapposte lo diremo poi nel momento in cui questo concetto di separabilità come si applica nei diversi algoritmi di classificazione assistita fatta quindi questa prima parte a questo punto possiamo cominciare a addestrare l'algoritmo e a lanciare i nostri diversi algoritmi le nostre regioni la nostra finestra della region of interest non ci importa più possiamo chiuderla tanto vedete che le nostre region of interest sono qua sul layer manager a questo punto andiamo sulla classificazione chiudiamo il folder la cartella relativa alle classificazioni unsupervised e apriamo quelle delle classificazioni supervised vedete qua ce ne sono un certo numero però noi non le abbiamo fatte tutte ne abbiamo fatto quattro in particolari e andiamo per esempio a prendere la prima cioè il minimum distance classification ok clicchiamo due volte e come sempre esattamente anche come nel caso della classificazione esodata siamo di fronte alla scelta del nostro del nostro insieme da classificare qua compare un'isodata quattro forse non è stato cancellato comunque sì forse era in memoria e prendiamo il nostro amazona scal in dark subtraction 4000 per 4000 sei bande esattamente come nel caso dell'isodata la possibilità di selezionare uno special subset che comunque è un dato del tutto accessorio ma noi classificeremo tutta la scena ma soprattutto l'opzione di andare a classificare su un certo numero di bande si esercita in questo menu quindi esattamente come nell'isodata questo è sempre il solito menu di scelta del dato con lo spatial e lo spectral subset qua in questo caso selezioniamo sei bande vi ricordate che poi se volessimo fare dei confronti e vedere come il classificatore funziona utilizzando un numero migliore di bande come abbiamo fatto per l'isodata lo dobbiamo andare a fare qua a questo punto selezioniamo tutta la scena e tutte le bande e diciamo ok benissimo adesso abbiamo il menu di classificazione da questo menu di classificazione cerchiamo di capire come il classificatore funziona ma l'abbiamo già visto nella teoria allora dobbiamo a questo punto esercitare l'altra opzione che stiamo che vi ho descritto nella teoria cioè quante classi andare a cercare qua non siamo più nel campo di isodata in cui noi diciamo un numero di classi e lui o meglio così come implementato in Envy un intervallo minimo e un intervallo massimo qua abbiamo lo addestriamo relativamente alle nostre classi quindi io potrei qua decidere di andare a selezionare una sola classe due oppure tutte e quattro in questo caso io le voglio selezionare tutte quindi seleziono tutte le mie classi che non sono altro che le nostre ROI ok vedete che anche avendo chiuso il menu delle ROI le ROI continuano a rimanere sulle nostre viste quindi le posso scegliere ok allora in questo caso abbiamo le due scelte che erano opzionali nel caso dell'isodata in particolare il settaggio della massima deviazione standard dalla media che vuol dire la massima distanza che può avere una singola cella nello scatter plot in questo caso a sei dimensioni rispetto al centroide a uno dei quattro centroidi perché in questo caso le classi sono quattro e i quattro centroidi vi ricordo la differenza rispetto all'isodata della minima distanza non è iterativa e la posizione dei centroidi non viene definita in maniera pseudo casuale come nella prima iterazione dell'isodata ma viene definita in base alla media calcolata dei nostri quattro dei nostri quattro classi quindi vuol dire che noi qua abbiamo la possibilità di poter definire una massima distanza relativamente a un modulo di deviazione standard calcolato ok non selezioniamo assolutamente nulla in questi casi lasciamolo invariato poi magari dopo faremo un esempio in cui verificare questa cosa e andiamo a verificare andiamo semplicemente a salvare il dato vedete non viene chiesto assolutamente nulla perché effettivamente userà queste ROI che abbiamo utilizzato per classificare quindi andiamo a selezionare il file risultato e chiamiamolo min underscore dist punto dat poi lo chiameremo in un altro modo quello successivo ok e guardate output rule images cioè quelle che vengono chiamate le immagini rule cioè funzione discriminante ok non vi spiego adesso cosa sono ve lo spiegherò nel momento in cui le osserveremo scegliamoci anche la destinazione di questa quindi lo chiamiamo min scusate underscore dist underscore rules punto dat ok abbiamo anche le rule image ok a questo punto clicchiamo ok e vediamo cosa succede vedete nel primo passaggio ha letto tutti i parametri dell'eroe quindi per quattro volte ha letto gli involori dell'eroe e adesso sta classificando fondamentalmente in minima distanza vedete estremamente veloce non ha bisogno di fare delle delle iterazioni perché il risultato è stabile dopo la prima iterazione perché i centroidi ovviamente non vengono modificati il risultato come potete vedere non è altro che un'immagine in falsi colori ok e i colori non sono altro che i colori che abbiamo utilizzato per le nostre eroi ok quindi per esempio tutta l'acqua verrà fondamentalmente rappresentata utilizzando gli stessi colori dell'eroe quindi in blu abbiamo l'acqua in marrone abbiamo le zone deforestate in verde abbiamo la vegetazione e in ciano abbiamo le nuvole ok allora visto che vorremmo fare un confronto di queste immagini con il resto allora facciamo una cosa andiamo nel data manager ok nel data manager scegliamoci come band selection una immagine 432 cioè una sintesi 432 che carichiamo in una nuova vista ok in modo da poter fare il confronto lo carichiamo in una nuova vista lasciamola anche orizzontale facciamo solamente in modo però che le due scene cioè le due viste scusate partendo magari da questa classificazione che ho su cui ho cliccato sopra e che ho selezionato vedete il frame ciano possano essere linkate perché altrimenti diventa difficile poter fare il confronto quindi andiamo nel menu principale views linkiamo le due viste ok linkiamo tutto e gli dico ok ed eccoci qua quindi a questo punto vedete che muovendomi su una mi muovo anche sull'altra ok e vedete posso avere una una misura di come funziona la classificazione vedete che l'acqua in questo caso sembra essere stata presa in maniera estremamente efficiente e vedete che anche quest'acqua che in condizioni diverse da questo è stata classificata esattamente come blu vedete che tutte le zone deforestate qua sono state prese però vedete che queste aree umide scusate zoomo qua sopra e magari mi sposto vedete questi questi campi che sono tutti questo vedete è sicuramente un'area deforestata vedete lottizzata e coltivata in questo modo non so esattamente cosa possa essere però vedete che tutte le zone umide intorno all'acqua che evidentemente non sono aree deforestate però vedete vengono classificate come queste aree deforestate che sono dei suoli che sembrerebbero non essere vegetati o con vegetazione molto rada ok la nuvola inciano l'ombra della nuvola vedete sembra essere classificata in maniera corretta nel senso che non è un'ombra ma è ancora acqua in questo caso andiamo a verificare cosa succeda in altre zone qua vedete che quando però andiamo su queste nuvole vedete le nuvole sono inciano ma le loro ombre sono classificate come acqua cioè vedete quindi qua abbiamo il primo problema cioè le ombre indipendentemente da dove siano se sono per esempio sulla vegetazione sulla foresta appaiono essere simili all'acqua mentre invece vedete che qua in questo caso alcune nuvole sembrerebbero essere circondate da qualcosa che sembra essere visto alcune nuvole come suolo nudo cosa dire della foresta beh la foresta mi sembra fondamentalmente ben caratterizzata vedete qua abbiamo fondamentalmente tutte le zone deforestate e la foresta mi appare di un bel ross ok quindi il problema che qua abbiamo è relativo fondamentalmente alle ombre delle nuvole ma d'altra parte non sono delle superfici vere ma sono degli outlier che vengono fondamentalmente rappresentati allora a questo punto quindi questo è il risultato di questa immagine e attenzione che il risultato di questa immagine se io vado con il tasto destro sul layer manager così come avevamo fatto per la classificazione isodata e chiedo una quick stats avremo le quick stats di questa immagine cioè quindi avremo in questo caso l'istogramma che è degenera perché è solamente una banda il punto nero e la media i punti verdi sono la deviazione standard rossi massimo e minimo ma ci dice per le nostre quattro classi 1, 2, 3, 4 quanti sono le celle che sono state assegnate a quella determinata classe che cosa vogliono dire questi numeri i numeri sono esattamente nell'ordine in cui abbiamo inserito le nostre region of interest ma vediamo ancora dopo come fare l'associazione se io guardo l'istogramma nell'istogramma ho un istogramma degenere esattamente come quello dell'isodata cioè qua non stiamo parlando di un istogramma di digital number ma solamente di numeri indici e di appartenenza a una determinata classe qua posso interrogarli e vedete vedere che nella classe 2 ho classificato qualcosa nel mio caso come più di 10 milioni di celle mentre nella classe 3 ho classificato 285 mila celle nella classe 4 2 milioni e 500 mila nella classe 1 ne ho classificati circa 2 milioni e 400 mila ok allora per capire esattamente che cosa sono queste classi esattamente come abbiamo fatto le scorse volte possiamo andare sul car location value andare a interrogare una classe e vedete che nella nostra classe il dato il data vedete lo leggete qua il digital number numero 2 è stato associato alla foresta ok mentre invece se vado sulla classe marrone mi dice che il dato è il numero 4 digital number 4 classe deforestato il ciano è data il dato numero 3 classe nuvole il blu che in questo caso è sbagliato perché è un'ombra della nuvola e il dato 1 classe acqua ok quindi lo si legge in questo modo adesso vediamo che cosa siano le rule image allora vedete che rule image ne sono state create 5 4 per le nostre classi data 1 2 3 4 e poi 1 0 che è un non classificato guardiamo la nostra classe acqua quindi chiudo cioè scusate tolgo dalla visibilità la classificazione qua tolgo quella non classificata e ho vorrei guardare solamente la mia rule acqua ok guardiamo la rule acqua attendete solo che qua ho dei problemi dovrei poterla vedere solamente in toni ok dovrei poterla vedere solamente in toni di grigio ok un attimo che arrivo ok questa è la classificazione vado nel data manager così almeno mi è più semplice andarla a vedere ok prendo la rule di acqua e la visualizzo in una nuova view in modo a poterla vedere separatamente eccola qua ok che cos'è questa rule image questa rule image non è altro che la rappresentazione della funzione discriminante ok quindi zoom per avere tutta l'immagine in modo da poterla vedere meglio ecco che ho la mia immagine allora che cos'è la funzione discriminante di una classificazione a minima distanza non è altro che la distanza di una singola cella dal centroide della classe di riferimento per cui la rule acqua non mi rappresenta altro che l'insieme delle misure che sono state fatte in base alla funzione discriminante per cui in questa immagine abbiamo per ogni singola cella la distanza in coordinate radiometriche in questo caso riflettanza perché il dato è calibrato dal centroide acqua ok allora se noi pensiamo alla convenzione con cui viene rappresentata un'immagine tutti i valori scuri rappresentano un basso valore di digital number quindi una distanza piccola rispetto al centroide acqua tutti i valori chiari rappresentano una distanza grande ok quindi vedete che tutte le aree scure sono quelle in questo caso che vedete qua sono tutte quelle che hanno una il cui valore della cella è molto vicino nello scatterplot a sei dimensioni al centroide acqua mentre invece tutte le zone chiare per esempio qua vedete le nuvole sono molto differenti e molto distanti dal centroide acqua se noi guardiamo in questa immagine e la guardiamo qui ok questo è rules e vado a chiedere le quick stats di questo dato guardate queste sono le quick stats non ci interessa particolarmente questo dato nel senso che queste rappresentano le fondamentalmente le nostre diverse classi sono un po' difficili da leggere noi abbiamo le nostre quattro classi quindi la 1 abbiamo detto è l'acqua la 2 la foresta la 3 le nuvole il 4 deforestato guardiamo l'istogramma di quella che qua viene chiamata banda 1 che in realtà è la rule image dell'acqua vedete che questa è una funzione fondamentalmente bimodale in questo picco qua abbiamo tutte le distanze piccole vedete che qua abbiamo dei valori che variano tra 0 fino a 800.000 queste sono frequenze scusate di celle in questo picco qua abbiamo tutta l'acqua cioè tutte le celle che hanno una distanza molto piccola relativamente al centroide acqua qua abbiamo tutte le celle che hanno una distanza molto grande cioè tutto quello che non è acqua ok? quindi guardiamo un po' se io in questa vista 3 adesso che è quella attiva vado con layer manager e a questo punto carico la rule della foresta che cosa mi aspetto di vedere? mi aspetterò di vedere tutta la foresta molto scura nel senso che tutte le celle che rappresentano foresta saranno vicine al centroide nello spazio a 6 dimensioni dello scatterplot al centroide foresta mentre per esempio l'acqua e la nuvole saranno molto chiare perché saranno molto distanti dalle foreste proviamo a caricare questo dato vedete che è vero quello che vi dicevo la foresta è molto scura l'acqua e le nuvole sono molto chiare ma anche tutte le aree deforestate sono molto chiare vedete perché sono molto distanti da questo centroide se io vado ancora con il layer manager scusate con il data manager e carico la rule di nuvole vedrò le nuvole molto scure e tutto il resto molto chiaro perché le nuvole hanno una riflettività e una firma spettrale e quindi un centroide che è in una posizione completamente diversa rispetto agli altri proviamo a caricare il dato e vedete che le nuvole sono molto chiare però attenzione scusate sono molto scure le nuvole vedete sono molto chiare le loro ombre e vedete che di scuro non c'è null'altro se non qualche parte qua accessoria se faccio l'ultima rule di deforestato e la visualizzo vedete tutto ciò che è deforestato è molto scuro l'acqua è molto chiara le nuvole sono molto chiare la foresta è un grigio intermedio che tende a essere chiaro e che rappresenta questi diversi aspetti quindi avete visto che in realtà queste rule image possono essere molto interessanti per tutta una serie di ragioni che vedremo subito dopo abbiamo quindi visto che le rule image possono essere molto interessanti soprattutto perché riportano questi valori relativi alle misure cioè la funzione discriminante che viene che il software esegue per fare questa questa prova allora per fare questa roba qua scusate io vorrei semplicemente riportare la prima rule che è questa qua vedete ho tolto la visibilità degli altri e ho la rule dell'acqua cioè quindi quella che rappresenta la distanza di ogni singola cella del centroide acqua in cui vedete che tutto ciò che è scuro è senza dubbio acqua tutto ciò che è più chiaro è sicuramente vegetazione cioè foresta poi vedete che le aree deforestate le nuvole sono molto chiare quindi sono molto distanti nello scatterplot a sei dimensioni dal centroide che rappresenta l'acqua allora se io chiudo il data manager questa è un'immagine quella delle rule che ovviamente ha le stesse dimensioni dell'immagine originale cioè sempre 4000x4000 perché all'interno di ogni singola cella c'è un digital number andiamolo a vedere attraverso le quick stats c'è un digital number che rappresenta il calcolo delle distanze rispetto a questo centroide quindi vedete che qua abbiamo dei valori di dato che ovviamente sono compresi tra 0 e 1 in questo caso qui abbiamo tutte le diverse rule che abbiamo a disposizione quindi come abbiamo visto prima questo è l'istogramma in cui direi che in questo picco abbiamo tutte le nostre la nostra acqua ok con valori molto bassi quindi riguardiamo un attimo questi valori vedete ovviamente essendo valori di riflettanza anche le distanze non possono che essere comprese tra 0 e poco più di 1 cioè nel senso che questo è il valore che è compreso quindi direi che nel nostro caso riguardiamo l'istogramma 1 che si riferisce alle rule acqua che vedete l'acqua sta evidentemente in questa zona cioè in valori bassi cioè quindi molto con un valore ovviamente ridotto perché sono vicini ai centroidi allora quindi questa è un'immagine esattamente come quella originale grande 4000 per 4000 all'interno il digital number non rappresenta delle riflettanze attenzione ma rappresenta la distanza di quella cella nello spazio a 6 dimensioni dello scatterplot dal centroide dell'acqua così come l'abbiamo estratto dalla ROI e che ha in ogni caso ereditato anche tutte le caratteristiche relative alla georeferenziazione però devo dire che essendo un'immagine qualsiasi ovviamente se io schiaccio col tasto destro posso ovviamente fare un density slice non c'è assolutamente nessun dubbio quindi se per esempio vado sulla rule acqua eccola qua e la seleziono io posso fare una vedete un density slice in cui osservo tutto quello che è compreso per esempio in viola vedete in cui direi che c'è la maggior parte dell'acqua è tutto compreso tra 0 e 0,07 direi ok quindi se io chiudessi tutte queste cose qua e aggiungessi un intervallo che magari coloro in blu ok in cui dico che l'intervallo è tra 0 e 0,07 ok questo è quanto vedete che ho preso solamente questi intervalli e vedete che sono riuscito a colorare molte delle nostre zone d'acqua poi se non sono sufficienti basta semplicemente andare a modificare il nostro intervallo radiometrico vedete aprirlo e vedete che nel momento in cui lo apro sto prendendo anche queste zone nere e vado a zoomare così almeno è più chiaro vedete che qua non riesco a prendere tutta l'acqua ma evidentemente è solamente un problema di questo intervallo invece di 0,08 posso prendere per esempio 0,1 ampliare questo intervallo e vedete che sto prendendo praticamente tutta l'acqua direttamente dalla rule la rule ovviamente vedete non prendo però questa qui quindi vuol dire questa di questo canale quindi modifico ancora vediamo se andando a mettere 0,2 è troppo troppo poco vedete in questo momento sto prendendo anche delle ombre di nuvole quindi è troppo grande andiamo a mettere 0,015 per esempio per tarare vedete che comincio a selezionare ovviamente prendo anche le ombre delle nuvole ma non c'è che sono poi questo picco probabilmente quindi se riesco a stare un po' più indietro diciamo 0,013 non lo so vediamo tolgo questo picco vedete che effettivamente molte le perdo però comincio a perdere anche l'acqua però vedete che il concetto su cui voglio che voi prestiate attenzione è il fatto che sulle rule image possiamo eseguire anche delle operazioni cioè quindi se possiamo fare un density size adesso non lo facciamo magari fatelo voi come esercitazione quando vedrete questo video per esempio potreste fare la stessa cosa utilizzando un bandmat quindi dirgli prendete tutti i valori inferiori a 0,13 nella rule image dell'acqua quindi B1 LT 0,13 a quel punto vi costruirete la maschera che rappresenta tutta quell'acqua che qua vediamo in blu per esempio quindi le rule image sono importanti almeno tanto quanto la nostra classificazione perché possono offrirci delle informazioni estremamente utili quindi abbiamo visto queste rule che stanno in questa view questa view direi che forse prende troppo spazio quindi rimuovo questa view in modo da ritornare all'esempio precedente ok quindi allora abbiamo fatto questa classificazione vi vorrei semplicemente adesso fare vedere cosa succede rieseguendo la classificazione ma inserendo i parametri che prima abbiamo trascurato relativi alla deviazione standard quindi per fare questo clicchiamo di nuovo due volte su minimum distance classification e classifichiamo di nuovo l'immagine quale dato prendiamo prendiamo vedete questo che è il nostro dato di calibrato ender subtraction queste sono le rule questo è il risultato min underscore dist della classificazione vi chiedo di tenerlo memorizzato perché nella prossima esercitazione lo riutilizzeremo per andare a verificare l'accuratezza attraverso le matrici di confusione per evitare di dover riclassificare tutto quindi tenetelo questo min underscore dist ma riproviamo a riclassificare utilizzando sempre sei bande tutta la scena ok selezioniamo tutti gli items ok quindi li selezioniamo assolutamente tutti e come unica variante andiamo a mettere una soglia di deviazione standard usiamo per esempio che so io quattro volte la deviazione standard vi ricordo che il valore che inseriamo qua dal momento in cui noi non sappiamo a priori quale sia la deviazione standard certo possiamo andarsela a vedere sulle diverse ROI però questo è il modulo cioè noi stiamo dicendo che ho digitato invio e vedete che è diventato 4.00 noi stiamo dicendo semplicemente che tutte le celle che sono associate a una determinata classe verranno associate a questa classe solo se la loro distanza è inferiore a quattro volte la deviazione standard di tutte le celle che sono state associate alla stessa classe tutte quelle che sono superiori a questa distanza non verranno associate a quell'insieme cioè a quella classe se non sono associate a quella classe è possibile che non vengano associate neanche alle altre tre e che quindi non siano classificate ok quindi la opzione qua è di che vedete settata single value cioè questo quattro volte la deviazione standard vale per tutte quattro le classi io potrei utilizzare anche vedete qua multiple value cioè vedete associare ad ogni singola classe un diverso modulo di deviazione standard però in questo momento vi voglio solo far vedere come funziona e quindi lasciamo questo single value di quattro ok mettiamo l'output result lo mettiamo lo salviamo e salviamolo come min underscore dist quindi prendo il nome di prima lo chiamo 1 punto dat ok e apro questo dato mentre invece la rule image l'abbiamo vista prima adesso non le guardiamo ok quindi gli dico con questa freccia no non generale la rule image e gli dico di procedere vedete le prime quattro video le prime quattro finestre hanno letto i parametri come sempre delle nostre eroi adesso prosegue la classificazione e questo è il risultato della classificazione vedete allora in questo risultato della classificazione quello che possiamo osservare differente rispetto a prima scusate che attivo il pan quello che osserviamo è che differente rispetto a prima è il fatto che non tutto è stato classificato per cui ci sono delle aree nere ok queste aree nere sono quelle che stanno oltre una determinata soglia di distanza per cui vedete che se noi andiamo a vedere queste aree nere vedete che c'è tutta questa parte di canale quest'acqua che non è classificata perché evidentemente è dissimile dal comportamento medio dell'eroe che abbiamo qua per cui non è stata classificata così come non vengono classificate vedete la vedo qua tutte queste zone deforestate che stanno lungo questo segmento così come vedete non vengono classificate molte delle ombre delle nuvole perché se io vado a zoomare qua vedete vedo le mie nuvole ma non vengono classificate le ombre allora indipendentemente dal fatto che vedete qua c'erano delle aree deforestate che prima non ho classificato in quanto tale qua non ci sono per cui questo è sicuramente un problema di sottostima della mia classificazione però qua in realtà in corrispondenza alle nuvole lecentro si presenta un problema è una fattispecie interessante vi ricordate che il nostro problema precedente era quello relativo al fatto che le ombre delle nuvole che non sono delle superfici fisiche perché sono degli outlier già le nuvole sono degli outlier cioè sono degli oggetti che stanno su questa immagine in maniera casuale perché durante il giorno in cui è stata acquisita e l'ora in cui è stata acquisita c'erano queste nuvole a maggior ragione le ombre sono degli outlier quindi non sono delle superfici vere però avete visto che prima nella classificazione queste ombre essendo e modificando fortemente la riflettanza perché in queste sei bande registriamo riflettanza sono tutte bande che variano dal visibile all'infrarosso medio le riflettanze sono notevolmente diverse rispetto per esempio la foresta se in ombra riflette in maniera molto diversa cioè un valore estremamente più basso rispetto a quello dell'area non in ombra in questo caso mettendo una soglia di deviazione standard vedete compare una non classificazione quindi teoricamente è un problema di sottostima è un problema di sottostima vedete nel caso per esempio di questa nuvola questa nuvola in realtà è più grande io ne vedo un pezzo più piccolo però il fatto che io non abbia classificato le ombre e che quindi qua compaia un buco se ben ci pensate è un vantaggio nel senso che è preferibile se non conosciamo la superficie di che vogliamo prendere in considerazione non classificarla piuttosto che classificarla in un modo errato perché se la classifichiamo in un modo errato non abbiamo nessuna possibilità di riassegnare a posteriore un nuovo valore mentre invece se in questo momento non la classifichiamo sappiamo che questo problema esiste e quindi potremmo prendere in considerazione il fatto di estrarre degli eroi di ombra proiettata in questo caso sulla foresta piuttosto che come vi ricordate abbiamo anche delle ombre proiettate sul fiume le vedete qua per esempio ci sono delle nuvole con le ombre vedete che questa ombra scusatemi mi sposto che l'ombra che proietta questa nuvola la nuvola non è stata classificata in quanto tale le sue ombre sull'acqua non sono state classificate io preferisco che non classificare degli oggetti piuttosto che associare un'etichetta di classificazione errata perché è abbastanza improbabile eccetto questa immagine che rappresenta veramente poche superfici ma che utilizziamo anche dal punto di vista didattico che per esempio io sull'immagine che rappresenta il Piemonte riesca a definire delle eroi su tutte le possibili superfici che riesco a riconoscere cioè è abbastanza improbabile che io sappia a priori quali sono le superfici che compagliono per cui se non riesco a definire tutte le eroi preferisco stabilire delle soglie per esempio basate sulla deviazione standard e non classificare piuttosto che classificare in modo errato perché se classifico in modo errato non ho più nessuna possibilità di correggere queste aree invece qua vedo che non c'è un'area e posso a posteriori capire come stiamo facendo in questo momento il perché non compare e quindi aggiungere nuove e differenti ROI quindi questo è un aspetto fondamentale che vediamo rispetto a questa possibilità che abbiamo di limitare per esempio in questo algoritmo in particolare una soglia di distanza basata sulla deviazione standard benissimo quindi abbiamo visto che la classificazione a minima distanza sembrerebbe funzionare abbiamo visto le diverse caratteristiche sul fatto che poi funzioni davvero lo vedremo con tanta calma nella prossima esercitazione quando alla fine della spiegazione anche degli altri ulteriori algoritmi di classificazione che vi ho illustrato nella parte teorica faremo poi le matrici di confusione e quindi verificheremo le reali performance allora a questo punto ci siamo direi che potremmo procedere passando la classificazione a parallelepipedo quindi vedete qua nel toolbox abbiamo la classificazione a parallelepipedo lanciamo una classificazione a parallelepipedo vedete da che cosa partiamo partiamo ovviamente dal dato di di origine quello calibrato in dal subtraction utilizziamo tutta la scena le sei bande come sempre e diciamo ok allora vedete che i parametri di classificazione sono abbastanza simili cioè nel senso che dobbiamo scegliere quali ROI utilizzare select all items utilizziamole tutte e poi vedete che qua a un certo punto di default mi viene settato un singolo valore di deviazione standard dalla media cioè per esempio tre volte cioè in questo caso viene settato direttamente di default cambiamo questo valore giusto perché almeno possiamo confrontarlo con quello precedente scriviamo 4 ok ogni qualvolta inserite un nuovo valore in queste finestre interattive di Envy ricordatevi di digitare invio perché così almeno siamo sicuri che siano stati presi tutti i valori come sempre vedete qua è molto scarno il nostro il nostro menu ovviamente se non vogliamo avere una soglia di deviazione standard basta scrivere non cioè nessuna qua mettiamone 4 e poi come sempre salviamo il risultato sul nostro file quindi questo chiamiamolo parallelepiped.dat ok e salviamo e salviamo anche le rule image quindi salviamo con il nome parallelepiped underscore rules punto dat anche le nostre rules ok e processiamo il dato allora vi ricordo che il parallelepipedo è un qualcosa l'algoritmo parallelepipedo funziona in maniera relativamente simile alla minima distanza nel senso che non vengono calcolati in questo caso delle distanze dei centroidi ma viene calcolata un'appartenenza all'interno di un parallelepipedo o un iperparallelepipedo o un iperrettangolo nel caso delle nostre sei bande nello spazio lo scatterplot in cui gli estremi sono delle dimensioni di questo rettangolo o iperrettangolo nelle nostre sei bande spettrali non sono altro che gli intervalli definiti dalla media più la deviazione standard media meno la deviazione standard per le bande considerate quindi è un algoritmo che dal punto di vista del funzionamento è abbastanza simile alla minima distanza perché continua a lavorare su degli scatterplot in cui vedete che il risultato anche guardando questo semplicissimo esempio in cui da una parte combinazione abbiamo a sinistra abbiamo la minima distanza con 4 volte la deviazione standard come soglia e qua abbiamo il parallelepipedo a destra con 4 volte la deviazione standard vedete che il funzionamento sembrerebbe abbastanza simile abbiamo maggiori aree non classificate di ombre di nuvole però sembrerebbe almeno in questo caso di avere più aree classificate come deforestato vedete che compaiono le nuvole però vedete che il risultato è sicuramente diverso rispetto a quello precedente cioè io mi muovo vedete viene classificata una maggior superficie di foresta anche sul fiume funziona molto meglio e vedete che il risultato adesso non possiamo compararlo direttamente cioè se andiamo in questa zona vedete che sicuramente estrae superfici deforestate in maniera molto più efficiente rispetto a quello limitato rispetto alla scusate alla minima distanza per cui sembrerebbe vedete che non c'è questo effetto di celle isolate non classificate ma la classificazione è molto più omogenea ok possiamo anche guardare le nostre rule perché guardando le nostre rule image scusate ma qua ho un sacco di cose differenti andiamo sul data manager prendiamo le rule image del parallelepipedo e prendiamo la rule dell'acqua e carichiamola in una nuova vista così almeno la separiamo dal resto e vedete che in questo caso la rule sembrerebbe essere molto particolare proviamo a strecciare con un algoritmo gaussiano e vedete che adesso compare e vedete che sembrerebbe essere un'immagine in bianco e nero cioè ciò che è bianco e ciò che è nero quindi guardate cosa succede in questo caso se noi andiamo a fare fuse scusatemi andiamo a fare il link quindi linkiamo tutte nello stesso modo ok e andiamo per esempio su questa su queste a identificare le parti di acqua vedete che le parti di acqua e qua sembrerebbe tutto molto chiaro come funziona la rule image del parallelepipedo selezioniamo questa immagine cliccando di sopra quindi frame vedete lo ripercorro ciano andiamo a prendere da questa terza vista che è questa cliccando col tasto destro del mouse il quick stats per vedere che tipo di dati abbiamo qua dentro e vedete che qua abbiamo dei dati che fanno riferimento scusate mi si ingrandita la finestra fanno riferimento fondamentalmente che al fatto che abbiamo dati compresi tra 0 e 6 sembrerebbe quindi questi valori un po' strani che riguardano questa diversa allocazione allora fondamentalmente le rule e andiamoci a vedere il listogramma 1 che dovrebbe essere quello dell'acqua ok vedete che la maggior parte dei punti stanno qua nelle zone 1 eccetera eccetera ma sono quelli più alti fondamentalmente le rule del parallelepipedo di nuovo prevedono il fatto che con valori alti che sono un grado di appartenenza del rettangolo cioè quindi i valori 5 e 6 sono quelli che maggiormente sono vicini al parallelepipedo di riferimento sono quelli che rappresentano l'appartenenza di quella classe all'interno del parallelepipedo di quella cella all'interno del parallelepipedo di riferimento noi possiamo anche in questo caso cliccare col tasto destro su quella parallelepipedo e utilizzare un raster color slice in cui per esempio vedete prendo quella la rule del parallelepipedo di acqua dico ok ci saranno ovviamente solamente 6 classi e vedete che la classe 6 sembrerebbe scusate lo chiudo la classe 6 cioè quella che ha il valore più alto o meglio la 7 in questo caso perché c'è anche la classe 0 che è quella non classificata sembrerebbe rappresentare tutta l'acqua la vedete qua scusate devo ancora chiuderlo quindi questa classe 6 sembrerebbe rappresentare l'acqua la vedete qua quindi vedete che tutto ciò che viene dato in classe 6 perché è un grado di appartenenza sembrerebbe appartenere all'acqua e vedete che anche in questo caso se non è 6 è 5 o 4 quindi è un grado di appartenenza a quel diverso insieme quindi vedete che anche in questo caso se io per esempio con un'operazione algebrica mi andassi a estrarre solamente le classi 5 e 6 dell'immagine prese dall'immagine della rule relativamente all'acqua vedete che con molta probabilità io andrei a estrarre tutta l'acqua presente nella mia diversa immagine ok benissimo chiudiamo questo density slice chiudiamo anche questa view in cui vi ho fatto vedere la rule image dell'acqua poi potete vedervi anche le altre non voglio perdere troppo tempo su questo aspetto perché vorrei ancora fare una cosa prima di finire questa esercitazione quindi andiamo su questa view tasto destro e rimuovo la view numero 3 ok quindi ritorno ad avere le due classificazioni precedenti in questo caso scusate c'è un problema di ridefinizione eccola qua queste sono le nostre ultime due classificazioni l'ultimo esempio che vorrei fare in analogia con quanto abbiamo fatto prima però facciamolo in maniera separata quindi ribadisco in questa parte a sinistra avete la classificazione a minima distanza vedete se clicco qua sopra vedete vado a vedere il parallelepipedo punto date direi che visto così con lo stesso parametro di soglia sembrerebbe nel punto di vista molto epidermico funzionare forse meglio la classificazione al parallelepipedo però verifichiamo adesso in congruenza con quanto abbiamo fatto prima come possa funzionare una classificazione al parallelepipedo senza soglie per cui assumendo e questa è la grossa differenza che se non usiamo soglie tutte le celle saranno assegnate ad una delle diverse classi non c'è verso cioè nel senso che a minima distanza come avete visto se non mettiamo una soglia una cella avrà una distanza minima da un determinato centroide vediamo cosa succede a non mettere soglie sull'algoritmo a parallelepipedo quindi riclicchiamo due volte qua sul toolbox sull'algoritmo di classificazione a parallelepipedo come sempre prendiamo il dato di base amazonas cal underscore ds cioè quello calibrato in dar subtraction utilizziamo tutte e sei le bande tutta la scena vi risulterà ovvio rispetto all'esercitazione precedente che se usassi un numero inferiore di bande il risultato sarebbe sicuramente diverso esattamente come l'isodata se volete fate delle esercitatevi a seguito di questo video provando per esempio a usare solamente le bande del visibile e capire cosa succede così come abbiamo fatto con la classificazione isodata qua utilizziamo tutte e sei le bande utilizziamo tutte e quattro le classi però non settiamo nessuna soglia ok quindi vedete qua c'era scritto single value di default e tre volte la deviazione standard mettiamo non salviamo il file come parallelepiped scusate mettiamo questo scusate queste sono le rules questo parallelepiped è uno punto dat che è quella senza soglia non generiamo le rule image perché non abbiamo bisogno le abbiamo già viste prima e lanciamo la classificazione ha letto come sempre le diverse roie adesso sta classificando verrà rimessa sopra questa di destra quindi dovrebbe essere visualizzata direttamente da questa parte eccola qua vedete cosa succede se non utilizziamo delle soglie se non utilizziamo delle soglie questo è tutto quello che sta dentro questi rettangoli senza soglia quindi prendendo solamente le deviazioni standard quindi spero che abbiate capito cosa sta succedendo vedete che è molto c'è una grossa parte di immagine che non è classificata che cosa avviene se non mettiamo delle soglie di deviazione standard sul parallelepipedo che immaginando di aver utilizzato solamente due bande se no mi è difficile farvelo prefigurare rispetto alla lezione teorica che abbiamo fatto se quindi avessimo utilizzato solo due bande quindi avessimo uno scatter plot che è facilmente immaginabile in questo momento è stato utilizzato un rettangolo nello spazio delle due bande cioè quattro rettangoli che rappresentano le mie quattro deviazioni standard delle quattro ROI che ho calcolato rispetto al valore medio quindi questi rettangoli sono relativamente piccoli perché è il valore di deviazione standard nel caso invece che vedevamo prima e ve lo faccio vedere e vado qua in basso per cui tolgo questo parallelepipedo dot 1 vedete non lo visualizzo questo è quello che è successo prima ho messo una deviazione standard di quattro volte quindi vuol dire che ho allargato questi rettangoli se li allargo saranno maggiori i numeri di celle che vado a prendere direttamente all'interno dei miei rettangoli per cui è ovvio che se non metto nessuna soglia a differenza della minima distanza in cui se non mettevo soglia tutte le celle venivano assegnate ad uno dei centroidi perché sicuramente avevano una distanza minima da uno dei quattro centroidi delle quattro classi corrispondenti nel caso del parallelepipedo se non metto una soglia viene considerata la deviazione standard non moltiplicata per un valore costante 1, 2, 3, 4, 5 volte il modulo e quindi in questo caso vedete se rappresento senza deviazione standard vedete che ho dei rettangoli molto più piccoli e quindi molte meno celle sono classificate all'interno di quei rettangoli perché nella nuvola di punti in questo caso di uno scatterplot a 6 dimensioni ci sono molte meno celle che stanno dentro questo esempio ok? se io volessi incrementare in questo caso il numero di celle che sono state classificate nell'interno della classificazione da parallelepipedo questa cioè se io volessi cercare di riempire questi buchi in qualche modo ammesso e non concesso che potrei classificarli in maniera errata cosa dovrei fare? proviamoci così vediamo quale sia il problema prendiamo come sempre il nostro dato utilizziamo sempre le 6 bande se no non possiamo fare un confronto utilizziamo tutti gli items invece di utilizzare il valore 4 utilizziamo per esempio il valore 6 non ha molto senso utilizzare un 6 digito invio 6 volte la deviazione standard ok? non genero le rule salvo la classificazione in parallelepipedo punto 2 ok? apro non lo useremo poi questo file useremo il parallelepipedo iniziale per fare l'analisi di accuratezza scrivo ok secondo me il risultato sarà che molte più aree saranno classificate rispetto a queste perché i rettangoli in considerazione saranno più grandi e vedete che è successo esattamente quello che pensavo vedete che molte di queste aree sono state riempite perché i parallelepipedi sono più grandi vedete questo lo guardiamo a destra questo è il risultato con 6 volte la deviazione standard questo è il risultato 4 volte la deviazione standard in questo momento non sto assolutamente valutando quale sia l'accuratezza cioè nel senso che potrei anche aver sbagliato classificare vedete qua per esempio tutta questa zona non era perfettamente classificata come scusate che vado a verificare per esempio questa linea non era tutta perfettamente classificata come area deforestata mentre invece ad occhio vedevamo che era deforestata se uso 6 volte la deviazione standard vedete che si è fondamentalmente riempita e continuano ad essere classificate le nuvole le ombre delle nuvole scusate perché le ombre delle nuvole fondamentalmente sono un qualcosa che non abbiamo mai definito prima non c'erano qua e non ci sono neppure qua però vedete che forse utilizzando valori più grandi di deviazione standard forse la cosa funziona meglio e vedete che l'unico problema che ho è che probabilmente quest'area non è assolutamente anzi non è sicuramente deforestata sono aree umide che però riflettono in maniera molto simile a quella deforestata benissimo quindi consideriamo che con oggi finiamo questa prima parte di esercitazione relativa alle classificazioni assistite quelle che chiamiamo supervised e la prossima esercitazione cioè la numero 10 andremo a verificare come funzionino le altre due classificazioni cioè che abbiamo spiegato in teoria cioè la massima verissimiglianza che vedete qua maximum likelihood e la spectral angle mapper questa qua e poi una volta fatte queste vedremo qual è la procedura per generare le matrici di confusione e le matrici di confusione le genereremo non solo per le classificazioni che faremo con la massima verissimi con l'algoritmo della massima verissimiglianza dello spectral angle mapper ma lo faremo anche per le classificazioni minimum distance e parallelepipedo le prime due che abbiamo fatto per cui vi ribadisco non cancellate questi file perché ci servono anche la prossima volta o se volete cancellarli dovete poi eseguirle perché io darò per scontato nell'esercitazione 10 di avere a disposizione anche queste due classificazioni quindi per oggi direi che è sufficiente vi ringrazio per l'attenzione e ci rivedremo per la prossima esercitazione arrivederci